ben ritrovati da mattia rock god in un nuovo video questo sarà un vlog ragazzi quando faccio un vlog vuol dire che devo parlare di tante cose e quindi eccomi qua appunto per farvi un po il riassunto degli ultimi giorni allora mercoledì pomeriggio ero in pullman stavo tornando a casa dal lavoro mi arriva un email con allegato alla busta paga di marzo la mia azienda lavora così il mese attuale quindi aprile mi paga il mese prima marzo quindi vuol dire che a maggio mi daranno lo stipendio di aprile ho detto beh è arrivata la busta paga di marzo adesso il prossimo step sono i soldi io ero molto preoccupato questa settimana perché sapete che le poste sono abbastanza lente però potrebbe essere anche colpa della banca della mia azienda adesso non so la mia azienda che banca abbia usato per mandare via i bonifici perché sapete che il bonifico tra virgolette standard ci mette quei soliti due tre giorni per arrivare se avesse fatto il bonifico istantaneo magari nel giro di 24 ore sarebbe arrivato però io non sto lì a far pressioni se mandano il bonifico ci vuole il tempo che ci vuole e ieri mattina le otto e mezza ero già al lavoro stavo guardando un attimo facebook e ho detto ciao vediamo se per caso non so magari un colpo di fortuna notifica guardo e post e pay che mi dice che c'è un movimento in entrata vado a vedere ed è lo stipendio ovviamente lo stipendio che ho preso il mese scorso non è per niente male e quindi niente dobbiamo aspettare fine maggio che mi daranno appunto quello di aprile per quello che faccio come lavoro mi sembra uno stipendio direi adeguato poi ovviamente ho celebrato questa cosa facendo una cosa che in realtà per quest'ultimo mese e mezzo non ho fatto cioè ho rinnovato il game pass perché a inizio marzo l'ho tolto quindi avendolo già pagato fino al 15 perché teoricamente mi si doveva rinnovare il 15 avendo tolto l'abbonamento prima del prossimo rinnovo microsoft non mi ha ovviamente addebitato ulteriori importi l'ho tolto per due motivi il primo è che volevo prendermi un po una pausa e secondo motivo perché il game pass ha tantissimi giochi questo lo so però una gran parte di quelli che ci sono dentro il catalogo non mi interessano quindi del pass comunque ho qualche gioco ma ovviamente la gran parte dei titoli che ho al momento installato nella libreria sono o giochi comprati dallo store quindi digitali oppure comprati in fisico quindi diciamo che l'equilibrio nella mia libreria è un po così così adesso non so esattamente il numero esatto di giochi che ho dovrebbero essere intorno alla settantina però la suddivisione tra game pass digitali quindi comprati sullo store e fisici non ve la so dire perché non l'ho fatto ancora la cernita della mia libreria e quindi ho rinnovato il pass e avendo rinnovato ieri che era il 27 vuol dire che il 27 maggio mi verranno addebitati ulteriormente 10 euro come al solito e allo tempo stesso ho diciamo tra virgolette disattivato il gold avendo già pagato il trimestrale perché io avevo i tre mesi sull'account microsoft mi viene detto non possiamo annullare l'abbonamento perché l'hai già pagato ti scadrà automaticamente il primo maggio in questo caso perché primo maggio perché il 2 sarebbe dovuto scattare il rinnovo però avendo disattivato la fatturazione vi basta disattivare quella che l'abbonamento poi scade e poi decidete voi se rinnovarlo o meno questo vuol dire che io dal 2 maggio non sono più utente gold ve lo dico perché ero disattivato perché in teoria serve per giocare online ma io online gioco praticamente una volta ogni morte di papa quindi tenerlo e quindi pagarlo per niente ho detto cosa lo tengo a fare che tanto online non gioco quasi mai e quindi ho tolto il gold quindi dal 2 maggio non sono più abbonato al gold ma adesso sono abbonato al pass di nuovo e ovviamente ho scaricato già un paio di giochi interessanti tipo vampire survivors che ho una mezza idea di portarvelo su twitch così ci facciamo anche due chiacchiere quindi farò il commento con la cuffia e ho scaricato anche il secondo episodio di coffee talk ho già fatto la recensione del primo quindi tempo qualche giorno ancora e poi cominciamo anche quello ho tolto mi sembra un paio di giochi che non mi interessavano più quindi io sono sempre lì a guardare se posso liberare spazio magari guardo i giochi che devo ancora terminare e poi eventualmente li elimino se non mi interessano più quindi faccio sempre un po di pulizia se necessario e poi niente a parte questo comunque sono contento di avere preso finalmente lo stipendio adesso aspettiamo il fine mese prossimo che mi danno quello di aprile poi in teoria io il primo giugno avrei già finito di lavorare però se tutto va bene perché mi hanno detto che sto lavorando bene quindi questo mi fa sempre molto piacere mi hanno detto che se tutto è regolare potrebbe scattare un rinnovo adesso vediamo io continuo a fare del mio meglio continuo a fare quello che devo fare e poi vediamo bene poi vi anticipo anche che ho in saccoccia una recensione di un film che ho visto su netflix qualche giorno fa ho finito di vederlo perché ho dovuto vedere in tre volte è un po lunghino e non volevo finirlo tutto in una volta sola e poi una recensione ve l'ho detto anche in un post di qualche giorno fa sulla community feed di un gioco prossimo al completamento mi manca solo una partita perché un gioco che devo rigiocare più volte per tutti gli obiettivi mi manca solo una partita e poi la recensione arriva solo che è un po una recensione a sorpresa perché dovrò farla in due lingue sì in italiano che la pubblicherò qua sul canale e poi in inglese specificamente per gli sviluppatori perché loro ci tengono alle recensioni quindi ho deciso di fargli una sorpresa di inviargli il link magari tramite twitter oppure magari gli scrivo tramite mail allo sviluppatore perché lui ci tiene alle recensioni volevo fargli appunto una sorpresa ovviamente il gioco non ve lo dico perché appunto è una sorpresa però voglio vedere che cosa mi risponde quando gli manderò il link della recensione quindi dovrò ovviamente scrivermi giù qualche riga perché non è che posso mettermi qua a parlare inglese senza niente di scritto quindi dovrò scrivermi un copione e poi fare ovviamente il video che sicuramente al primo tentativo non mi riuscirà mentre in italiano dovrei farcela ok direi che possiamo anche concludere qua quindi quando vi parlavo di vampire survivors che vi ho detto ho una mezza idea di portarvelo su twitch vediamo perché non è detto che ci vorrà così tanto per vedere una live di vampire survivors magari già domani ve la potrei portare però aspettate sempre conferma da parte mia magari sulla community feed ve lo faccio sapere vi ringrazio dell'attenzione vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ringrazio ovviamente tutti gli iscritti e le vostre visualizzazioni perché mi fa sempre piacere se i miei video vengono visti vuol dire che piace quello che faccio ovviamente lasciate anche la campanella delle notifiche attiva se non volete perdere tutti i prossimi video e detto questo vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima